ciao a tutti gli amici del pianeta terra nei documentari itineranti che propongo narrerò i territori visitati attraverso il respiro della vita intravista evidenzierò durante le nostre esplorazioni le bellezze paesaggistiche la flora e se possibile la fauna ponendo anche l'attenzione sul modo in cui la nostra specie si è inserita in questi contesti naturali per fare tutto ciò mi avvalgo dell'importante e piacevole compagnia di crazy e di camilla con i quali vi rimando alla condivisione delle nostre avventure ciao mi prendi l'anima